ciao oggi vediamo come pulire i fari della nostra auto con aceto bicarbonato usiamo uno straccetto per pulire e strofinare e questi sono i miei fari sono veramente conciatissimi e adesso andiamo a spruzzarli su a fare una prima pulizia con lo sgrassante proprio per togliere la prima patina che che si riesce i fari sono molto opachi quindi anche come luminosità chiaramente se ne perde molto allora andiamo a mettere il nostro bicarbonato nella con un po di liquido di aceto imbeviamo lo straccio bicarbonato e l'aceto si neutralizzano a vicenda quindi comunque è più anche prodotto stesso bicarbonato che farà da graffiante diciamo da come pasta abrasiva senza però incidere fortemente i nostri fari che che li danneggerebbero intanto non vi faccio vi lascio anche come fare la pulizia di uno split con lo schiumogeno un video che ho fatto e quindi potete eventualmente andare a vedere altri video in altri miei video in questo caso però continuiamo a strofinare e se vi interessa magari andare a vedere anche un altro mio video sempre su come si usa il test fondamentale per anche per andare a fare delle piccole delle piccole riparazioni a in casa ma anche sulla sulla nostra auto e se volete addirittura anche vedere come è fatto uno split cosa come è composto uno split dentro e fuori e come funziona e intanto il nostro il nostro nostro faro è venuto molto meglio di come era prima soprattutto e abbiamo tolto una grossa patina che dava fastidio ciao ciao Grazie a tutti